quali giorni saranno? I programmi per i prossimi giorni sono purtroppo molta molta guida domani abbiamo appunto abbiamo questo importante consegna all'ospedale di Slovyansk siamo direttamente in in contatto con il direttore sanitario insomma dell'ospedale di Slovyansk dopo di che passando da Kharkiv torniamo a Kiev dove arriveremo domani sera molto tardi 24 e 25 saremo a Kiev anche per dare un per consegnare le stampelle e le altre attrezzature all'ospedale di Kiev ma anche per cercare di creare una comunicazione in un giorno così tristemente importante cioè l'anniversario dei due anni della guerra dell'invasione russa e quindi possiamo